Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno alla segna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo brevemente della fiducia al governo Draghi, ottenuta anche alla Camera, parliamo del blackout in Texas e infine della sonda, scusate, del rover Perseverance che è atterrata su Marte. Prima di cominciare però vi volevo chiedere scusa per l'inconveniente tecnico della puntata di ieri in cui le ultime parole sono state tagliate e quindi non ho concluso con la classica frase chi si rassegna è perduto, per cui per fare ammenda e anche per rimettere, riequilibrare il saldo dell'universo oggi alla fine puntata lo dirò due volte. Detto ciò cominciamo con le notizie di attualità. La prima appunto è che ieri il governo Draghi ha ottenuto la fiducia anche alla Camera, era una fiducia anche qui molto ampia, sono stati 535 voti a favore, 56 contrari e 5 gli astenuti, dopo che mercoledì, insomma, l'avevamo ampiamente commentato, aveva ottenuto la fiducia anche al Senato con il discorso che praticamente nella puntata di ieri abbiamo appunto visto passo per passo. La votazione però, anche quella di ieri, ha continuato a creare malumori politici, soprattutto all'interno delle due forze principalmente rappresentate in Parlamento, ovvero la Lega e il Movimento 5 Stelle. Tre dei deputati leghisti hanno votato no e successivamente hanno abbandonato la Lega per passare a Fratelli d'Italia, che è al momento l'unico fra i principali partiti a non appoggiare questo nuovo governo, mentre fra i 5 Stelle sono stati ben 16 i deputati a votare contro, mentre 4 si sono astenuti e 14 non erano proprio presenti alla votazione. Nel frattempo i 15 senatori che ieri avevano votato contro l'indicazione sulla fiducia, i 15 senatori dei 5 Stelle, che appunto avevano contraddetto l'indicazione di voto ricevuta attraverso il voto online sulle piattaforme Russo, sono stati espulsi e sembra che stiano organizzando una sorta di gruppo parlamentare di ex 5 Stelle, quindi magari anche una nuova forza politica vera e propria, comunque che potrebbe stare all'opposizione a questo punto. Comunque vedremo. Questo era un po' un breve aggiornamento sulla situazione del nuovo governo, ma vorrei passare subito alla seconda, ma principale, insomma almeno come peso specifico nella nostra rassegna, notizia del giorno, ovvero cosa è successo in Texas, perché negli ultimi giorni c'è stata una fortissima tempesta di neve e di freddo che ha riguardato buona parte degli Stati Uniti, è stata particolarmente severa in Texas e soprattutto in Texas ha avuto delle conseguenze abbastanza devastanti, perché in alcune zone dove le temperature sono scese ripetutamente per vari giorni sotto lo zero è andata via la corrente elettrica a milioni di persone, con ovviamente tutte le conseguenze che si possono immaginare. Praticamente cosa è successo? Per via del gelo moltissime persone in Texas hanno acceso il riscaldamento nelle stesse ore e quindi riscaldamenti che in molti casi appunto andavano a corrente elettrica e non a gas e quindi la domanda di elettricità è salita improvvisamente e ha creato uno squilibrio rispetto alla capacità di erogazione, costringendo la società che gestisce la rete elettrica in Texas, che sarebbe la Electric Reliability Council of Texas, la EERT, a cosiddetta appunto a interrompere le forniture in alcune zone a rotazione, quindi lasciando complessivamente milioni di persone senza corrente elettrica. Ok, come mai però c'è stato questo blackout in uno dei paesi che ha più disponibilità energetica degli Stati Uniti, dove negli ultimi anni si sono sviluppate moltissimo anche le energie rinnovabili, dove l'elettricità costa mediamente un quinto rispetto al costo medio appunto degli Stati Uniti, tant'è che il Texas è uno dei paradisi del mining, delle criptovalute a livello globale. Come mai è successo questo? Allora, molti politici di alla repubblicana hanno dato la colpa del blackout alle fonti rinnovabili di energia, tipo le paleoliche, perché con la tempesta si sono ghiacciate effettivamente molte delle paleoliche e quindi hanno interrotto la produzione e la distribuzione di energia elettrica. Versione che fra l'altro è stata comunque portata avanti anche da importanti giornali, tipo il Wall Street Journal, da diversi commentatori dei programmi TV di Fox News e dallo stesso governatore del Texas, Greg Abbott, appunto repubblicano anche lui, che hanno un po' colto la palla al balzo per attaccare le politiche di Biden contro le trivellazioni e per dire che invece, insomma, dimostrare che c'è ancora bisogno dei combustibili fossili. Che poi, tra l'altro, se anche fosse che la colpa di tutta questa situazione è delle energie rinnovabili che non hanno funzionato, non mi sembrerebbe questa grande soluzione reagire a un evento climatico estremo tornando alle fossili che sono l'origine di quel tipo di evento climatico estremo. Però vabbè, al di là di questo. Comunque, in realtà, sembra che non sia andata neanche esattamente così, perché, a quanto pare, più che un problema delle rinnovabili è stato un problema di tutta la rete di produzione e distribuzione dell'elettricità. Innanzitutto ci sono stati blocchi importanti anche alle centrali elettriche alimentate a carbone e a gas per via di ritardi delle forniture dovute proprio al fatto che tutte le strade erano bloccate per la neve, il gelo, eccetera. ritardi che hanno causato una perdita di energia quasi doppia rispetto a quella causata dal blocco delle paleoliche. Quindi, in realtà, insomma, è difficile anche imputare proprio la responsabilità di questa stazione alle rinnovabili. E, fra l'altro, appunto, e poi oltre a questa cosa qua, c'è stato il problema di come è strutturata la rete elettrica texana. Perché se c'è una unica società che gestisce tutta la rete, appunto ERCOT, come dicevamo prima, poi però ci sono circa 300 aziende che... cioè, la ERCOT supervisiona tutta la rete, quindi è la responsabile della supervisione della rete, ma poi a gestirla praticamente ci sono circa 300 aziende diverse che si occupano, appunto, di distribuire l'energia in un regime di alta concorrenza fra tutti questi attori diversi, che di fatto spinge le aziende a mantenere i costi più bassi possibile per poter, appunto, accedere al mercato. Perché, sennò, con tutta questa concorrenza è quasi impossibile riuscire a vendere energia. Per mantenere i prezzi così bassi e offrire, quindi, i prezzi migliori rispetto ai concorrenti per i propri consumatori, non vengono fatte le operazioni di manutenzione delle strutture in vista dell'inverno. Perché si presuppone che, in genere, e spesso è così, in Texas gli inverni non siano così rigidi. E quindi che non ci sia bisogno di fare grosse manutenzioni perché, normalmente, gli inverni sono abbastanza miti. Solo che, come sempre, l'efficienza... l'efficienza economica è nemica della resilienza. E, appunto, un'economia che vuole massimizzare i profitti eliminando qualsiasi forma di protezione di backup o di ridondanza anche sui settori vitali, come quello dell'approvisionamento energetico, finisce per causare disastri. Questa ne è l'ennesima dimostrazione. Ok, chiudiamo la parentesi sul Texas... parentesi... parentesi abbastanza lunga. E passiamo all'ultima notizia del giorno, ovvero che il rover della NASA Perseverance è arrivato su Marte. I rover sono quei robottini con le ruote, che quindi sono in grado di spostarsi sulla superficie di Marte, in questo caso. L'atterraggio non era, fra l'altro, per nulla scontato perché, insomma, la sonda che lo trasportava doveva decelerare da quasi 3.000 km all'ora a zero in soli 7 minuti, che sono il periodo in cui la sonda ha attraversato l'atmosfera marziana, che, fra l'altro, è abbastanza poco densa, quindi di per sé non rallenta moltissimo la velocità con cui si muove, appunto, la sonda. E, fra l'altro, doveva farlo da sola, quindi senza controlli da remoto, che potevano aggiustare il tiro se le cose non andavano. Anche perché, fra l'altro, i controlli da remoto sarebbero stati abbastanza inutili, perché, vista la distanza di Marte dalla Terra, sarebbe intercorso circa una mezz'oretta, tra quando poi l'ordine sarebbe effettivamente stato eseguito dalla sonda, quindi non sarebbe servito a cranché. Comunque, a parte questo, queste ragioni, insomma, queste complessità hanno fatto sì che finora il 40%, solo il 40% dei tentativi di atterraggio su Marte, siano andate a buon fine. E anche se per sé veranze era considerato di gran lunga il tentativo più sicuro e strutturato, c'era comunque una certa tensione all'interno dello staff della NASA. Tensione è che si è sciolta quando il rover ha toccato Terra. Allora, non so se si può dire è toccato Terra riferendosi a Marte, ma insomma ci siamo capiti. E quindi adesso prende il via ufficialmente la missione Mars 2020, che è destinata a cercare tracce di vita passata e a raccogliere i primi campioni del suolo marziano, che presumibilmente nel 2031 saranno portati e riportati sulla Terra da un'altra missione, anzi, da un'altra staffetta di missioni in cui anche l'Italia, il nostro paese, è coinvolto. Perseverance, come dicevamo, è la sonda più sofisticata che la NASA abbia mai inviato sul pianeta rossa e vuole verificare l'ipotesi che le due precedenti missioni marziane, Curiosity Opportunity, avevano suggerito, ovvero che miliardi di anni fa Marte fosse un pianeta umido e con condizioni potenzialmente adatte alla vita. Tra l'altro c'è un articolo su Wired che fa una domanda interessante, ovvero è possibile che con queste missioni stiamo trasportando dei microbi su Marte? Perché la NASA a quanto pare cerca di fare il possibile perché non avvenga, ma non lo possiamo del tutto escludere. E chissà, mi viene da pensare che se fra qualche miliardo di anni, compatibilmente con la durata della vita del Sole, questi eventuali microbi non si saranno trasformati magari in qualche civiltà evoluta su Marte, mentre noi nel frattempo ci siamo estinti, chi lo sa. E chissà, fra l'altro, che non sia successo anche il contrario, per cui magari prima c'era vita su Marte, poi non lo so. Mi faceva ridere questa, mi sembrava curiosa, questa sorta di staffetta della vita tra la Terra e Marte. Comunque, vabbè, niente, io direi che per oggi abbiamo finito, vi do appuntamento a lunedì perché domani è sabato, con una puntata di un rassegno sempre al 10, sempre per 10 minuti, e vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto e, di nuovo, chi si rassegna è perduto. Così siamo paesi. Ciao, buon weekend.